cento anni romanzo ciclico di giuseppe rovani volume primo preludio di tutte le forme della letteratura e della poesia il romanzo è la più disprezzata e per alcune classi di persone la più abborrita la lettura di un romanzo si fa per solito di nascosto e lontano possibilmente dagli occhi dei curiosi pressa poco come quando si commette un peccato se una ragazza in odore di gran leggetrice di romanzi storna da sé qualunque possibilità di matrimonio la spina dorsale deviata il broncocele la clorosi l'isterismo l'epilessia sono in una fanciulla contro i giovinotti assetati che voglio mettere casa spauracchi meno spaventosi dell'abitudine a legger romanzi i maestri i pedagoghi i prefetti di camerata se colgono un giovinetto alunno sprofondato nella lettura di un romanzo tosto è un tumulto nella famiglia un parapiglia nel collegio convitto minacce di castighi di espulsioni di collere implacate gli uomini gravi i torcicolli quelli che si danno importanza quelli che vogliono parere senza essere i cultori di matematica i poliglotti quelli dell'alta e della bassa filologia gli studiosi d'economia quelli che aspirano perlomeno a diventare soci corrispondenti di un qualche istituto danno tutti quanti a più potere la caccia ai romanzi e guardano ai romanzieri con atti di commiserazione e di sdegno e di inquietudine come gli esorcisti del bel tempo dell'inquisizione guardavano i sospetti di stregoneria bene sono esclusi dalla persecuzione dall'odio universale alcuni pochi romanzi celeberrimi che a buoni conti si chiamano libri perché la parola non corrompa l'opera ma anche questi pochi libri che in italia crediamo che sommino a cinque e in francia a tre e in inghilterra ai migliori di scott e ai due di bulwer sono concessi in via di tolleranza come ai tempi dell'editto di nantes erano sopportati i protestanti e gli è bensì vero che il romanzo storico era come riuscito in addietro a sottrarsi all'interdetto se non altro per la difficoltà delle ricerche e per la necessità di rovistare negli archivi e perché in una parola la mente e la fantasia erano condannate alla schiavitù della schiena ma dopo che il più grande dei romanzieri venne a condannare il romanzo storico come una mostruosità della letteratura come un ente ibrido come un assurdo come un impossibile il romanzo storico fu cacciato più sotto ancora del romanzo intimo e i pedanti che non trovarono mai da lodare manzoni questa sola volta s'accorsero della presenza del suo genio questa sola volta che con coraggio inaudito nella storia dell'orgoglio umano il grande uomo venne a dar di martello all'opera più colossale del suo genio appunto da più anni infatti il romanzo storico sembra che sia quasi scomparso dalla faccia del mondo sembra che ai cacciatori della fama sia passata la voglia di farne e colui che oggi ha la malinconia di pubblicare questo lavoro e che nell'età dell'innocenza stampò tre romanzi storici uno dopo l'altro quantunque ne avesse avviato un quarto dopo il discorso manzoniano lo converse tutto quanto infidibus per la sua pipa casalinga ma se gli uomini onesti e pacifici se i padri di famiglia se i prefetti se i prevosti possono essere oggi mai quasi sicuri dell'assalto dei romanzi storici hanno tutte le ragioni di perdere l'allegria se pensano a quell'altro genere di romanzi che si è convenuto di chiamare contemporanei intimi di costume questi romanzi crebbero a dismisura nella persecuzione come gli schiavi d'egitto e di babilonia si moltiplicarono a miriadi sotto alla percossa dei testoni pesanti come le lumache quanto più si zappa nell'orto contaminato in inghilterra e in francia è una produzione di romanzi tale che sembrano fatti a qualchiera a trancia a torchio a mulino a vapore è un'eruzione perpetua e in tutti i modi è più invadente che la lava dello spirito umano contro lo spirito umano che direbbe se comparisse oggi orazio col suo precetto degli anni dieci e quanti ne producono francia e inghilterra aiutate dagli stati uniti tanti ne inghiotta il mondo che come sigari li fuma e abbrucia e ne getta gli avanzi alla bordaglia tuona la critica tuonano i pergami le fanciulle somminacciate di celibato gli adolescenti di essere cacciati dai ginnasi i giovani di studio ad essere esclusi dal banco ma i romanzi si riproducono si sparpagliano penetrano dappertutto e sono letti persino da chi tuona e sbuffa persino dalle madri sospettose persino dagli uomini che si danno importanza persino da quelli che hanno la missione di far prosperare l'alta filologia e la numismatica e la diplomatica e i concimi e il baco e il gelso sotto al grosso volume severo noi spesso abbiamo visto trafugare alla nostra visita in attesa la leggiadra brochure parigina su cui di gran volo potremmo sorprendere i nomi peccaminosi di goslan di gotier di coq di dumas o orrore dopo tutto ciò è egli giusto codesto dispregio in cui è tenuto il romanzo sia storico sia contemporaneo sia di costumi sia morale sia industriale sia marittimo sia dell'alta sia della bassa società sia di da scalico sia psicologico ramificazioni tutte del gran ceppo del vetusto romanzo cavalleresco noi crediamo fermamente di no e fermamente crediamo che il dispregio provocato dai guastamestieri ingiustamente sia si rivolto contro al genere intanto in codesto interesse antico e perpetuo del romanzo deve essere deposta la ragione che storna la sua abolizione intanto i più grandi scrittori del secolo sono romanzieri foscolo manzoni goethe byron scott chateaubriand victor hugo bulwer tradussero in forma di romanzo le più splendide e più consistenti emanazioni della loro mente intanto in un libro di un gran duomo abbiamo letto che l'iliade domero è un romanzo storico l'odissea un romanzo intimo la divina commedia un romanzo enciclopedico il furioso un romanzo fantastico la gerusalemme un romanzo cavalleresco tutte le verità e della religione e della filosofia e della storia se hanno voluto uscire dall'angusta oligarchia dei savi per travasarsi al popolo hanno dovuto attraversare la forma del romanzo che tutto assume la prosa la poesia le infinite gradazioni dello stile ei si innalza in un bisogno nelle più alte regioni dell'idea s'abbassa tra le realtà del mondo pratico è elegia è lirica è dramma è epica è commedia è tragedia è critica è satira e discussione al pari dell'iride a tutti i colori ed è per questo che si diffonde nel popolo e piove come la luce di luogo in luogo e di ceto in ceto ed uomo in uomo e per l'onnipotenza sua appunto può recar danni funestissimi come vantaggi supremi che tutto dipende dalla mente che lo governa così avviene degli elementi più poderosi che sono in natura i quali riescono nel tempo stesso e benefici e pericolosi all'uomo il romanzo di scott invogliò la ricerca delle memorie rivelatrici del medioevo e inspirò il sommo thierry carlo dickens in inghilterra propose ed ottenne riforme legali in darno proposte e domandate dalla scienza in toga se non che questi elogi che facciando il romanzo or quasi ci fan parere indegni di pubblicarne uno mentre prima il quadro detestabile che ne abbiamo fatto quasi ci faceva venire il rossore sul volto al pensiero che stavamo per ritornare romanzieri ma sia qual vuolsi è ridicolo tanto l'abbellirsi di modestia quanto l'accusarsi di superbia già ogni qual volta un galantuomo stampa qualche prodotto della sua mente è reo della più luciferina superbia di cui si può essere capaci stampare significa credere bellissimo e utilissimo all'umanità quello che si è pensato e scritto e chi nel punto massimo della più alta stima di se stesso si fa innanzi col capochino e con le proteste della sua incapacità è un bugiardo però noi aspiriamo al merito di non essere mendaci cento anni è il titolo del nostro lavoro e cento anni dovremo veder passare di fuga innanzi a noi cominciando dalla metà del secolo andato e chiudendo alla metà del secolo corrente vedremo le parrucche cadenti a riccioni stare ostinatamente contro i topè vedremo il topè subire più modificazioni e concentrarsi nel codino col chiodo vedremo i ciuffi a campanile i cappelli alla brutus e la cerchia del rinascimento vedremo il guardi infante del secolo passato attraverso a più vicende venire a patti col guardi infante del secolo presente vedremo la cipria che imbiancava i capelli neri di mutamento in mutamento svolgersi in quell'empiastro che oggi fa diventare neri i capelli bianchi d'altra parte vedremo il progresso dello spirito umano pur subendo le altalene di questi matti capricci della moda trovare la sua uscita e andare innanzi e vedremo le arti camminare a spinapesce perché il nostro romanzo deve essere anche un trattato di estetica e sentiremo a cantare i tenori e i soprani del secolo passato al teatrino del palazzo ducale e prendendo le mosse da essi e con essi e con gli altri che l'ortennero dietro calcheremo per cento anni il palco e la platea dei nostri teatri e vedremo lo spiegarsi e ripiegarsi e l'estendersi e l'accartocciarsi della musica e nella nostra lanterna magica passeranno le ombre dei poeti dei letterati dei pittori dei pensatori attraverseremo dunque a dir tutto i decorsi cento anni scegliendo i punti salienti dove le prospettive si trasmutano lo sguardo e dove si presenta qualche elemento di nuovo progresso o di regresso di bene o di male che dalla vita pubblica si infiltri nella privata e osserveremo forse per la prima volta fatti e costumi e accidenti caratteristici che non ottennero ancora posto in libri divulgati e di cui la notizia rimase o nella tradizione orale che ancora si può interrogare o in carte manoscritte quali i processi i decreti gli atti giuridici le memorie di famiglia eccetera o in opuscoli che sebbene stampati pure stettero segregati dal commercio e dalla pubblica attenzione e al tutto dimenticati e nei quali si leggono cose da cui derivano idee più complete o modificate o talvolta anche affatto opposte alle accettate intorno alle condizioni dei nostri padri per somministrar così criteri più interi onde stimare i fatti successivi però al fine di tenere dietro al movimento storico di periodo in periodo essendosi dovuto rompere le dighe dell'unità di tempo nel modo il più rivoluzionario abbiamo provveduto a stornare la rivoluzione dal campo sacro e inviolabile dell'unità d'azione ricorrendo al partito che ci fu suggerito dal fatto vero di un processo criminale e di un'azione giuridica civile conseguitane di svolgere il nodo drammatico nel seno di quelle famiglie più o meno cospicue per le quali quel processo e quell'azione continuarono per 75 anni così che la differenza originale tra il nostro libro e i libri con generi consistesse in ciò appunto che dove per consueto gli attori sono individui operanti nel tempo limitato di un periodo della vita nel nostro lavoro gli attori fossero invece famiglie la cui vita camminasse con le generazioni cogliendo da ciò occasione di tenere dietro agli svolgimenti graduali di tutte le parti che costituiscono la civiltà di un paese vedremo pertanto gli scherzi curiosi che faranno nel corso di un secolo codeste famiglie appartenenti a varie caste distinte alla sorgente e confuse alla foce e nella vita di un uomo che visse non a genario e che è nato quasi alla metà del secolo passato morì quasi alla metà del secolo corrente e che parlò mangiò e beve e rise con noi avremo ci si permetta l'espressione la chiave di volta che varrà a tener congiunto il vasto edificio era avvicinare fra loro quattro generazioni pressa poco come il patriarca enos che andò a caccia con adamo e spremette i primi grappoli con noè e congiunse le due grandi epoche della creazione del mondo e della dispersione delle genti le promesse sono gigantesche e presuntuose ma guai a chi promette poco il lettore lo piglia tosto in parola